Mamma mia, che merda, che merda, mamma mia, al momento attuale siamo al novantaduesimo. Se usciamo con un punto preso, male male, perché con tutto rispetto pareggiare con questo Empoli è una partita persa, perché non posso vederla come un punto guadagnato, non ce la faccio, è impossibile. Cioè, penso sia stata una delle partite più brutte di questo campionato, arbitrata in una maniera indegna, perché io tuttora mi sto chiedendo come è stato possibile annullare il gol di Viola, secondo me regolare su tutti gli aspetti. Tutti, tutti gli aspetti, era regolarissimo. Cioè, l'entità con cui Pavoletti va a sbattere addosso a Caprile non è tale da poter giustificare l'annullamento del gol, perché lì è stato Caprile a sbagliare completamente i tempi, ad andare in avanti. Quindi, Pavoletti non guarda mai il portiere, guarda sempre e soltanto la palla. Dov'è il motivo per cui dover annullare quel gol? Non esiste, non esiste. Poi, rigore di Viola. Io l'ho visto subito che non era sereno. L'ho visto subito. Si vedeva, non era adatto per tirare rigore. Però, guardando quelli che avevi in campo, a chi lo facevi tirà? A Viola. Io personalmente avevo due nomi in mente. O Viola, o Prati. Che secondo me avrebbe meritato di tirare almeno un rigore, perché è uno di quelli che più di tutti prova a cercare il gol e si meritava un'occasione simile. Poi, è chiaro che, essendo giovane, magari sbagliarlo avrebbe avuto più conseguenze negative. Però gli avrei dato questo tentativo. Poi, io non nego che porto Ranieri così. Perché Ranieri, specialmente poi per un romano, è veramente tanta roba. Ma la gestione dei cambi oggi ha lasciato veramente a desiderare. Oh! Mamma mia petagna. Stavo dicendo, la gestione dei cambi oggi non esiste. Tra l'altro, non ho ben capito il motivo per cui è uscito la padula. Sinceramente faccio fatica a capire il motivo per cui si è uscito la padula. Tra l'altro, non che abbia fatto qualcosa per giustificare la sua permanenza in campo, sia chiaro. Però non ho nemmeno capito il motivo. Per carità, poi lo Vumbo, comunque qualche sgaloppata importante e pericolosa l'ha fatta, per carità. Però non riesco a trovare il senso dell'uscita di la padula, personalmente. Intanto ci tengo anche a ringraziare Valu, che comunque si vede che ha ancora il cuore rosso-blu e ha provato a regalarci un'occasione che poi non è stata sfruttata da Viola. Però lo ringrazio per il tentativo, perché comunque fa sempre piacere. E comunque ragazzi... Non me ne vogliono i tifosi dell'Empoli, ma questa è una squadra imbarazzante e noi oggi non abbiamo scherzato, eh. Anche noi oggi siamo stati imbarazzantissimi. Veramente imbarazzanti. Non lo so, non ho capito il senso di questa partita. Non ho capito l'approccio che c'è stato. Non ho capito nulla di questa partita. Veramente. Zero, ma zero, zero. Proprio zero a zero il risultato. Dossena, non fare queste cose. In questi frangenti di partita. Per carità, non succede perché non penso succederà oggi. È bello vincere le partite al novantesimo. Lo sappiamo benissimo. Ma non è che ogni partita deve finire così. Si può anche segnare prima. E io aggiungerei l'imperativo. Si deve segnare prima. Eh. No. No. Non sa da fare. Petagna, Oristanio, Mancoso sono entrati troppo tardi non possono entrare all'ottantacinquesimo ottantaseiesimo e il solo Lumbo non può fare miracoli nelle sgaloppate di Lumbo si vedeva sempre che mancava un giocatore a coadiuvarlo ed è lì che doveva esserci Oristanio era in quei frangenti mamma mia probabilmente finirà l'approssimazione e non va bene così non va bene non va per niente bene in realtà Maresca non mi sembra molto intenzionato a fischiare certo che se giochiamo sempre il pallone dietro e non lo mandiamo in avanti non capisco perché Maresca stia facendo continuare a giocare in realtà non ci sono stati degli stop che potessero permettere questo giocare un minuto in più praticamente ma perché tirate cazzo state sulla tre quarti tirate che cazzo continuate a crossare che partita di merda che partita di merda oggi era da vincere oggi era da vincere oggi bisognava vincere e si poteva vincere tranquillamente a me è quello che mi fa rabbia che si poteva vincere tranquillamente che rabbia che rabbia ragazzi che rabbia che rabbia 1-0-0 che sta veramente disconfitta per come la vedo io ha messa di sconfitta amara brutta perché secondo me le due squadre non reggono il confronto il Cagliari penso sia nettamente superiore all'Empoli ma la prestazione che abbiamo fatto oggi è degna del peggiorempoli la prestazione che abbiamo fatto oggi era un qualcosa di imbarazzante indegno e è brutto da dire ma che non merica la categoria in cui viene effettuata perché la prestazione che abbiamo fatta oggi è una prestazione da serie B da una squadra di mentalità di serie B che è quella la cosa che mi dà ancora più fastidio perché Ranieri è una delle cose maggiori che doveva portare a Cagliari la mentalità e se in alcune partite si è visto ed è impossibile negarlo oggi abbiamo visto il completo opposto non va bene così non va bene tra l'altro la prossima partita contro chi è? vediamo un po' contro il Lecce finirà così il giro nell'andata al via del mare sarà una partita tosta vedete quello che dovete fare che vedete